Gradito ritorno al Safiter, quello di Mingo De Pasquale, ancora una volta con un tema particolare. Beh sì, un tema sociale. Qualche anno che partecipo con lavori che hanno a sfondo sociale. Quest'anno parliamo di autismo. Innanzitutto sono contentissimo di essere al Safiter perché è Romeo Conte. Non si può fare a meno di Romeo Conte, ragazzi. Io ho bisogno almeno un anno, una volta all'anno, di vederlo, toccarlo. Prima perché il Safiter e Romeo Conte portano bene. Io ogni volta che ho partecipato al Safiter poi mi hanno chiamato a fare altre cose. Quindi, ragazzi, scusate. Quindi bisogna partecipare assolutamente. Quest'anno c'è un tema importantissimo che è quello dell'autismo. Sono interpreto in questo piccolo video perché non è un cortometraggio. È un video, uno spot che parla di autismo. Dura due minuti, diretto dal mio amico Antonio Palumbo, bravissimo. È prodotto dall'associazione Vinci con Noi, di Stefania Delia, un'associazione che si occupa di bambini affetti dal disturbo dell'autismo. Con la quale Stefania, da più di tre anni, abbiamo cominciato un percorso lavorando a un progetto. Lo spot, ma il vero progetto è il lungometraggio, un film, che parla di un uomo di 50 anni. Sono io, 50 anni. Un po' di più, però diciamo 50 anni. Affetto da questo disturbo, dalla forma più severa, più importante. L'idea è quella di fare un film col taglio della commedia. Cioè, secondo me, bisognerebbe, innanzitutto usare l'ironia, secondo me, forse è un'arma vincente per me. E poi ho visto che a livello cinematografico non c'è tantissimo sull'argomento. O meglio, c'è, ma non trattato in questa maniera, dove si racconta di un adulto, perché siamo abituati sempre a vedere i bambini. Però questi bambini poi crescono, diventano grandi. E quindi, come sono a 40, 50 anni, e quindi raccontare, lo puoi fare solo con un'opera artistica, con un film. Con un film si possono lanciare tantissimi messaggi. E quindi l'idea di fare questo film, con questo protagonista che si chiama Pin, che è il personaggio che interpreto. Divertente, simpatico, perché loro poi hanno un mondo incredibile, che io ho potuto conoscere dopo tre anni, perché poi alla fine è un argomento così difficile, imbarazzante. Chi non conosce, pensa, non sa nulla, invece bisogna informarsi, perché l'autismo, ragazzi, non è una malattia. Non si può guarire dall'autismo, perché non è una malattia, è un disturbo con il quale bisogna conviverci tutta la vita. E quindi, se questi bambini vengono seguiti con dei centri, insomma, dei centri giusti, possono magari diventare come Pin, che è un personaggio, poi se avrete modo di vedere questo spot, che si chiama Micascemo, e lo slogan finale, Micascemo, autistico Micascemo, basta andare su YouTube, cliccare Micascemo e compare subito il video, vi assicuro che, insomma, capite tutto in due minuti. Tutto, tutto no, non sono ancora io alla ricerca di qualcosa per capire, però è un bel messaggio. Ma cosa ti ha lasciato dentro questa esperienza, Mingo? Beh, diciamo che continuo ancora a lasciarmi, perché il lavoro è ancora di studio. Io per far interpretare questo personaggio, che ripeto, è un uomo di 50 anni affetto d'autismo, ho dovuto incontrare per più di un anno, sono stato a casa di alcune famiglie con bambini affetti d'autismo. Quindi sono stato con loro, ho giocato con loro, ho passato giornate con loro, guardandoli, osservando, ma soprattutto cercando di capire, e non è facile capire per chi ovviamente è così esterno come noi, cosiddetti normali, ma nessuno è normale, siamo tutti diversi. Io sono diverso da te, da lui, quindi, cioè, di che stiamo parlando? Però ci arrivi piano piano quando cominci a conoscere, a capire bene, a osservare. E quindi mi ha lasciato dentro che noi dobbiamo abbandonare assolutamente la metrica del giudizio, perché l'abbiamo messo in evidenza anche in questo video, la storia di quest'uomo che fa delle cose strane, strane per noi, perché si prende un'arancia, fa delle cose, e quindi noi quando vediamo qualcosa che è diverso da come noi siamo abitualmente, lo giudichiamo, ma guarda che strano quello, non stai attento, non lo guardare, il cuore è pericoloso, e se fa qualcosa, non lo guardare, ma non vedi che fa cose strane, se ho questo facciamo, ed è la cosa più sbagliata, e l'ho capito lavorando a questo progetto, quindi miglioriamo sicuramente, perché loro ci lasciano qualcosa di importantissimo, e capiamo che ci sono altri meccanismi per vedere le cose. Miglioriamo anche vedendo questo spot, e quando vedremo il film, a proposito del film, la promessa lo proiettiamo in prima al Sufiter? Magari, magari, porta bene il Sufiter con Romeo Conte, poi se vuoi vedere Romeo Conte è un piacere, ragazzi, è un piacere, veramente, sta lì, dietro la telecamera. Grazie. Grazie a voi.